Ho finito le riprese di un film un paio di mesi fa e sono andato in Svezia a trovare la mia famiglia. Ho letto la sceneggiatura mentre tornavo in aereo dalla Svezia a Los Angeles. Mi sono innamorato subito, la storia era bellissima e il personaggio molto interessante. Avevo già visto Murderball, il documentario di Henry Rubin, l'ho trovato molto bello, ma non conoscevo Henry, non lo avevo mai incontrato prima. Grazie alla tecnologia abbiamo parlato via Skype, lui era a Londra, io a Stoccolma. Mi ha colpito subito, le sue idee erano molto interessanti, abbiamo parlato della sceneggiatura, del personaggio e della storia e mi ha molto entusiasmato, è il massimo per un attore o almeno per me, lavorare a progetti difficili, se ti piacciono sia la sceneggiatura che il personaggio, oltre alla storia e ovviamente il regista, se credi nel suo intuito, se credi che il regista racconterà la storia di cui tu vuoi far parte in modo interessante. Ormai siamo alla seconda settimana ed è un'esperienza fantastica, ma anche difficile, perché giriamo per molte ore, devono finire tutta la parte in due settimane e mezzo, perciò le giornate sono molto intense, ma per me resta in ogni caso un'esperienza bellissima. Oh, è fantastica, non conoscevo Paula, l'avevo vista in Precious, è una grandissima attrice, ci divertiamo molto insieme. Fra noi si è creata una sorta di armonia a forza di lavorare con Henry. Iniziamo a provare la scena, leggendo le battute, ma poi cambiamo alcune cose, sì, insomma, aggiungendo qui, tagliando là, per rendere tutto più reale e organico. È un po' come un esperimento. Il direttore della fotografia ha uno stile diverso, molto interessante. La camera è spesso nascosta da qualche parte, a volte l'attore non sa neanche dove sia. È bello, è divertente. È stato fantastico lavorare con Michael Nickvist, che interpreta Schumacher, l'uomo che stiamo cercando. È buffo. Michael è di Stoccolma, viviamo a sud di Stoccolma, a due isolate di distanza. Lo conosco da 15, 20 anni, da quando ero piccolo, ma non avevo mai lavorato con lui. È il nostro primo film insieme. È interessante, perché siamo entrambi di Stoccolma e ora ci ritroviamo qui a Yonkers a lavorare insieme.